Il primo grande evento del Centro Sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e all'ecologia ambientale. Giunta la quarta edizione, l'Ecomob Expo Village si conferma evento di riferimento per il Centro Sud Italia con tematiche strettamente legate alla sostenibilità e alla green economy. Da venerdì a domenica prossimi, 30.000 metri quadri di area espositiva nella suggestiva cornice del porto turistico del Marina di Pescara. Gianluca Gianlorenzo, quarta edizione, quali sono le peculiarità? La cosa su cui noi puntiamo è l'assoluta libertà e possibilità di poter provare tutti i mezzi esposti, quindi dalle auto elettriche, gli scooter, le e-bike e la micromobilità. Quindi la nostra peculiarità è proprio quella di far provare questa esperienza a tanti che ancora non l'hanno provata. Noi come Camere di Commercio abbiamo anticipato un po' con i tempi questa edizione di Ecomob, e siamo alla quarta edizione ed è il salone, la fiera più importante del Centro Sud Italia nel settore. Assessore Mascia, sempre convinto a settore di questi principi legati alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e quindi all'ecologia a tutto tondo a 360 gradi, saranno per questo tre giorni di grande richiamo a Pescara? Sì, è una bellissima manifestazione, organizzata molto bene, è il motivo per il quale il Comune di Pescara continua a confermare la sua presenza, anzi la fa crescere ulteriormente. Quest'anno avremo uno stand anche più bello e più organizzato degli anni passati. I progressi sono sotto questo profilo significativi, soprattutto a Pescara e non solo, però c'è una certa diffidenza verso le novità. Ma il compito delle amministrazioni è di credere in determinate tematiche, noi ci crediamo fortemente e quindi dobbiamo creare le infrastrutture. Tutto questo poi deve generare un cambio culturale. L'ultima chi utilizza i monopattini, possiamo dirlo senza tema di essere smentiti, anzi è un'esortazione da parte dell'assessore Luigi Albore Mascia, bisogna essere più responsabili. Assolutamente, i monopattini vengono utilizzati da persone che anche d'inverno ne fanno un uso responsabile. Poi d'estate c'è un'utenza diversa, che è quella dei più giovani, ai quali dobbiamo lanciare un messaggio di responsabilità, di consapevolezza. È un appello che facciamo ai ragazzi, ma è un appello che facciamo anche ai genitori. Uso del casco sotto i 18 anni, non si può andare in due in monopattino, e qualche volta addirittura i vigili sanzionano tre ragazzi in monopattino. Insomma, è un mezzo straordinario, bellissimo, ma come tutte le cose bisogna farne un uso corretto.